Essendo il casello per la finale B di questi Cruiser, subito loggiate Comasco a prendere il comando delle operazioni con il guariglia che si infia, Zio Mike in seconda posizione non molla, va a mordere il colpaccio al suo compagno di team, allora andiamo a fare un super applauso anche a questa prima finale B della categoria Cruiser 24 pollici e qui abbiamo la finale B dei G2 con Nicolo Cocciolo